Primo giorno d'estate e prima allerta AFA nelle marche Omicidio Bruzzese arriva la condanna all'ergastolo anche per Rocco Versace Urbino al ballottaggio, Scaramucci tenta il sorpasso su Gambini Dalla Scienza al Management i premiati 2024 del Circolo della Stampa Il sostizio d'estate porta alla festa della musica e concerti dal tramonto all'alba Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News Telegiornale di giovedì 20 giugno, una data che esattamente alle 22.51 di questa sera Contrassegnerà il sostizio d'estate e l'ingresso nella bella stagione dal punto di vista meteorologico Primo giorno d'estate e prima allerta AFA nelle marche perché le temperature in aumento degli ultimi giorni Toccheranno un picco domani con Ancona che fra le 8 città italiane dà bollino rosso secondo il Ministero della Salute Sono infatti previsti 38 gradi nel capoluogo, Urbino toccherà i 37 gradi e Pesaro 34 Temperature che si annunceranno poi in graduale diminuzione fra sabato e domenica E passiamo alla cronaca giudiziaria perché nel tardo pomeriggio di ieri la Corte d'Assise delle Tribunale di Pesaro Ha pronunciato la sentenza di condanna all'ergastolo per Rocco Versace 58enne calabrese considerato il pianificatore dell'omicidio di Marcello Bruzzese a Pesaro in Via Bovio Il giorno di Natale del 2018 Ergastolo per il reato di omicidio aggravato dall'associazione mafiosa Marcello Bruzzese era il fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Biagio Bruzzese Un delitto che è stato reputato una vendetta trasversale di indranchita Per il quale prima di Versace erano già stati condannati all'ergastolo in giudizio abbreviato I due esecutori materiali dell'omicidio Michelangelo Tripodi e Francesco Candiloro Il 23 e 24 giugno si tornerà a votare ad Urbino per il ballottaggio che dovrà scegliere il sindaco tra il primo cittadino uscente Maurizio Gambini che al primo turno di due settimane fa ha ottenuto il massimo delle preferenze con il 47,96% e Federico Scaramucci che ha invece ottenuto il 44,73% Scaramucci una settimana fa ha però stretto un accordo programmatico con la lista futura di Maria Crespini che aveva ottenuto il 7,3% Uno Scaramucci che dunque tenta il sorpasso in questo turno di ballottaggio e che abbiamo avuto oggi ospite nei nostri studi Abbiamo raccontato in questi mesi una nuova città una nuova città che verrà come l'abbiamo chiamata e poi a seguito anche dell'apparentamento con la lista civica futura di Francesca Crespini la futura città che verrà in cui abbiamo raccontato la nostra idea nuova di sanità dove vogliamo impegnarci per garantire la tutela dell'ospedale di Urbino e la tutela dei servizi sanitari territoriali insieme ai comuni del circondario Abbiamo raccontato che vorremmo lavorare per i nostri giovani i giovani che da Urbino purtroppo in questi anni tanti se ne sono andati noi invece vorremmo che rimangano che possano costruire qui il loro progetto di vita e di lavoro che possano avere nuove opportunità ovviamente in collaborazione con l'università che è il primo partner strategico della città e abbiamo raccontato anche come vorremmo implementare il secondo motore della città di Urbino che è il turismo con tutte le attività culturali la collaborazione con gli enti di formazione, con gli enti della cultura creare maggiore iniziative con il progetto 52 settimane e 52 eventi affinché la città di Urbino sia continuamente vivace, continuamente visitata apprezzata ovviamente da turisti a livello nazionale e internazionale questo anche per poter far sì che possano nascere anche nuove attività lavorative Urbino in questi mesi è stato anche teatro di iniziative insieme a degli ospiti importanti abbiamo avuto proprio questi giorni Bersani abbiamo avuto il sindaco di Firenze, il sindaco di Bologna collaborazioni con naturalmente tanti amministratori locali del territorio sia nella parte verso la Valfoglia con Pesaro e Vallefoglia per le nuove infrastrutture che vorremmo realizzare che anche verso la Val Metauro con i comuni del circondario per la tutela della sanità, dei servizi pubblici e i collegamenti l'augurio è di poter lavorare insieme a Pesaro, Vallefoglia e a tutti gli altri comuni per poter sistemare, per poter migliorare le infrastrutture del territorio noi abbiamo parlato proprio di questa strada specifica Urbino-Pesaro io oggi per arrivare qua ci ho messo quasi un'ora per dire e invece c'è un progetto del 2012 per riprendere quel progetto significa poter chiedere all'ANAS che oggi è la proprietaria diciamo alla pertinenza di questa strada le risorse per poter migliorare questo tratto in particolare la Trasanni-Morciola perché poi si collega con le Monte Labattese che consentirebbe di accorciare notevolmente il tragitto tra Urbino e Pesaro questo serve ovviamente all'università, agli studenti, alle famiglie, alle imprese serve a tutti, quindi è una cosa che noi dobbiamo per forza fare e parlare oggi della provincia di Urbino e quando invece abbiamo bisogno di collaborare con Pesaro, Vallefoglia e tutti i comuni è semplicemente anacronistico Qual è invece la risposta che darà eventualmente Scaramucci in caso di elezioni nei primi 100 giorni, lo sprint dei 100 giorni al sindaco? Sì, noi chiederemo appunto per poter creare la squadra dell'amministrazione chiederemo di fornire una rosa di nomi uomini e donne per poter con competenza ricoprire determinati ruoli poi ovviamente la scelta aspetta il sindaco perché questo lo prevede la legge però ci sarà una condivisione rispetto anche alle competenze tante competenze che abbiamo coinvolto nella nostra grande squadra nel nostro grande gruppo io voglio rassicurare i cittadini che dalla prossima settimana noi siamo pronti per poter amministrare questa città voglio dirlo soprattutto a giovani e ai nonni che sono le due categorie che in qualche modo possono promuovere sempre il cambiamento quando arriva un'amministrazione nuova deve completare i progetti che ci sono e deve anche proseguire per fare meglio quello che aspetta la città di Urbino Restiamo ad Urbino e lo facciamo per parlare dell'ospedale perché ci sono novità annunciate oggi dal presidente dell'asta Alberto Carelli è stato infatti installato un nuovo sistema polifunzionale per il reparto di diagnostica per immagini del valore di 260 mila euro un potenziamento di strutture che coincide anche con un potenziamento nelle assunzioni 10 nuovi medici a Urbino da inizio anno ai quali si aggiungeranno nei prossimi mesi un nuovo cardiologo, un anestesista e un oculista Questa mattina un'eli ambulanza è atterrata direttamente sulla carreggiata della superstrada Fano Grosseto in prossimità dello svincolo di Bellocchi c'è stato infatti un incidente fra un'auto e uno scooter il cui conducente è parso in gravi condizioni e dunque trasportato in elissocorso all'ospedale Torrette di Ancona E torniamo su Pesaro, lo facciamo per andare a vedere la tradizionale cerimonia del 38esimo premio del Circolo della Stampa tenutosi ieri a Palazzo Montagnantaldi Applausi ed orgoglio per il 38esimo premio del Circolo della Stampa che ieri nell'auditorium di Palazzo Montagnantaldi ha onorato come da tradizione l'opera di 5 personalità pesaresi di nascita, onorari o d'adozione affermatisi nei rispettivi settori ad essere premiati il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini il biologo, neopresidente della Federazione Europea di Immunogenetica Marco Andreani le sorelle Ilaria e Valeria Pascucci la prima astrofisica all'Università dell'Arizona la seconda top manager di Amazon a Seattle infine la premiazione da remoto dell'attrice soprano Anna Maria Alberghetti premi speciali Orgoglio Pesarese allo storico Girolamo Allegretti e alla famiglia Paci a 30 anni dalla scomparsa di Ubaldo Paci vittima della banda della Uno Bianca è un premio prestigioso perché è il riconoscimento di un'attività fatta per lunghi anni sia a Pesaro che a Roma che in altre città del mondo e mi fa piacere, sono molto davvero riconoscente a Elio Giuliani che ringrazia tutto il gruppo dei giornalisti quello che faccio è cercare dei donatori che siano compatibili per fare dei trapianti di cellule staminali quindi quello che normalmente viene chiamato midollo osseo per cercare dei donatori per il trapianto di organi solidi come il rene, il fegato, il cuore è un'attività che noi svolgiamo in laboratorio con grande passione e che oltre ad avere un'attività appunto rutinaria di tutti i giorni in cui costantemente dobbiamo supportare il lavoro dei clinici con le nostre informazioni produce rivoli di ricerca per i quali noi ovviamente con la nostra curiosità, la nostra passione cerchiamo di costruire nuovi indizi per portare novità che possono essere utili ai pazienti pubblicando le nostre ricerche comunicandole nelle nostre relazioni che facciamo ai vari congressi internazionali e inoltre facendo anche formazione attraverso quello che è possibilmente un'attività che lasci il segno ringrazio a tutti, è un grande onore è proprio un premio che c'è da molto tempo è molto importante quindi è un grande onore come educazione sono astrofisica e quindi principalmente mi occupo di come si formano i pianeti attorno ad altre stelle e a livello di mansioni sono anche professora all'università e quindi insegno anche corsi a livelli sia studenti che comincio all'università primo e secondo anno e anche a livello più avanzato dottorandi di nuovo all'università dell'Arizona quindi sono lì da quasi 20 anni sono tornato nella terra degli avi per gentile richiesta per questo prestigioso premio per l'attività che svolgo mi hanno detto così di divulgazione scientifica in un periodo in un'epoca che possiamo definire della comunicazione totale della informazione globale è quanto mai necessario fare comunicazione anche su temi scientifici perché i temi scientifici sono quelli trainanti avete sentito parlare ovviamente di intelligenza artificiale avete visto qual è stato l'impatto di internet sulle nostre vite beh il meglio deve ancora venire ci sono nuove tecnologie che adesso sono ancora confinate nei laboratori di ricerca e che si diffonderanno invece nella società e cambieranno la nostra vita più di quanto non abbia fatto internet i computer portatili o i telefonini cellulari i vertici di Coldiretti Pesaro Urbino Tommaso Di Sante e Claudio Calevi hanno incontrato oggi il prefetto Emanuela Saveria Greco per accendere l'attenzione su un'emergenza cinghiali ritenuta preoccupante per i continui danni alle coltivazioni animali che sono attualmente stimati in 40.000 esemplari nelle marche con Coldiretti che chiede a gran voce un piano di contenimento e continuano i tanti appuntamenti della mostra del cinema di Pesaro infatti questa sera è previsto in Piazza del Popolo alle 21.30 l'omaggio al cinema d'animazione di Enzo Dallò ieri sera invece la proiezione di Forrest Gump nel trentennale della uscita nelle sale del film da premio Oscar di Robert Zemeckis una proiezione che abbiamo commentato con il noto attore e doppiatore Francesco Pannofino in quel film si ride si piange si pensa si riflette si ricorda si ipotizza cioè è un capolavoro assoluto quello è il merito di Robert Zemeckis il regista l'autore del film e di Tom Hanks che ha restituito questo personaggio in modo così felice a me rimane l'orgoglio di aver fatto parte di questa operazione insomma che rimane nella storia del cinema la sua cavata è stato un lavoro lungo ha durato un mese probabilmente avevo trent'anni di meno avevo meno esperienza però credo di averla seccata insomma perché comunque vedendo e rivedendo il film le emozioni che Tom Hanks ha dato in originale sono state restituite anche in italiano e vuol dire che il trucco è l'unico il sostizio d'estate a cavallo tra la giornata odierna e quella di domani coincide anche con la festa della musica che cade ogni 21 giugno e che Pesaro celebra da anni e che nell'anno di capitale della cultura propone in versione allargata per quattro giorni sta per iniziare a Pesaro la festa della musica in occasione del solstizio d'estate che cade nel giorno del 21 giugno ma che vedrà la manifestazione prolungarsi fino al 24 per l'occasione di Pesaro 20-24 la manifestazione internazionale proporrà una grande varietà di iniziative tra queste il progetto dal tramonto all'alba che rientra nel dossier della capitale italiana della cultura Pesaro non poteva mancare a questo appuntamento della festa della musica non manca già da molti anni insomma partecipa ormai da tanti sette anni mi sembra Pesaro è l'elemento fondamentale per la musica e per la cultura musicale quest'anno siamo riusciti a anche gestire e progettare una festa musica molto elaborata il comune si è impegnato moltissimo in queste tre giorni e soprattutto siamo riusciti a far suonare tantissimi giovani e musiche anche di un certo tipo legate anche alla cultura musicale del posto il programma è molto ricco vivrà di diversi momenti tra cui ad esempio il concerto in Piazza del Popolo che lega Conservatorio Rossini e mostrano lo cinema come da tanto tempo con l'omaggio al centenario di Mancini ma anche tanti altri momenti concerti all'alba il contributo delle band coreane che stanno venendo qua per la Korean Week ma in realtà per partecipare anche alla festa della musica con il Via Trio che farà anche dei concerti all'alba al tramonto ci sarà un progetto specifico un progetto di dossier all'oasi su San Bartolo finalmente da segnalare la conclusione nella serata di domenica in Piazza del Popolo con un triplice appuntamento straordinario nel pomeriggio 400 elementi delle bande di tutta la provincia che si alterneranno e si esibiranno in Piazza del Popolo per uno spettacolo unico a seguire alle 21 il concerto del coro dei maestri un coro venuto appositamente da Seoul di 45 cantanti 45 solisti che si uniscono per questo tributo alla musica italiana e alla musica coreana e chiudere poi con un concerto invece che va sulle note del cantautorato e del pop italiano per chiudere così con i nostri classici da Piazza del Popolo quindi una tre giorni tutto ingresso libero tutto ingresso gratuito straordinario e a cui invitiamo naturalmente pesaresi vissettatori e turisti a partecipare è inserita nella festa della musica ma non solo c'è anche un evento molto particolare ovvero quello dell'Ecofest nella fondazione Oasi di Oico sul San Bartolo un'edizione 2024 che ci viene illustrata dal suo ideatore Claudio Balestri intervistato da Paolo Pagnini ed eccoci in uno dei posti più suggestivi della costa adriatica siamo in fondazione Oasi e siamo con il presidente Claudio Balestri Presidente che cosa succede il 21, 22, 23 intanto l'inizio dell'estate e questa è una gran bella cosa poi con l'inizio dell'estate abbiamo il sostizio d'estate altro bel momento e iniziano i programmi dell'Ecofest con la musica e poi dopo seguiranno dei racconti delle presentazioni di libri e poi avremo un momento in cui mezzanotte dopo che abbiamo ascoltato i brani musicali ci faremo una bella pizza insieme una pizzata al forno un vecchio forno che faceva il pane per gli abitanti del luogo e poi continua la musica ma non vogliamo disturbare durante la notte e quindi avremo le cuffie balleremo con le cuffie e la notte continua arriveremo all'alba c'è il concerto di un gruppo coreano e poi andremo di nuovo al forno e mangeremo faremo colazione con il pane appena sfornato dal forno ecco questa è la sintesi dei momenti più importanti che trascorreremo insieme vendiamo una parola in chiusura per questa cosa curiosa che c'è alle sue spalle perché noi vediamo un tramonto straordinario come sempre da questa postazione una barca che si presume sia stata portata e che non sia stata arenata da qualche fortunale ma soprattutto una cosa molto particolare questa porta naturalmente tutti i visitatori ne scopriranno e ne sapranno di più ma vogliamo incuriosirli? questa porta se la si guarda bene non ha una maniglia perché è un simbolo per guardare oltre quindi uno si mette davanti a questa porta pensa l'immaginazione si chiama portal quindi come una porta l'immaginazione e questo diciamo deve rappresentare per ognuno il momento in cui si ferma pensa e esprime un desiderio come quando andiamo alla fontana di Trevi o da qualche parte che lanciamo la monetina e esprimiamo un desiderio quel desiderio lo possiamo scrivere nel nostro cellulare in una pagina dedicata e tutti i desideri anonimi perché il desiderio deve rimanere anonimo verranno pubblicati e vedremo una lista di desideri delle persone che l'hanno voluto esprimere e domani venerdì 21 giugno l'arrivo dell'estate porta anche un nuovo programma su Rossini TV ce lo illustrano i due curatori Paolo Pagnini e Nicoletta Tagliabrazi prende avvio estate capitale un nuovo nuovissimo programma di Rossini TV che vuol portare i telespettatori a scoprire tutto quello che di bello si può fare in questa estate che abbiamo atteso per tanti anni è arrivata l'estate 2024 l'estate dell'anno della capitale italiana della cultura e allora noi con le nostre telecamere vi porteremo a capire a scoprire tutto quello che si può fare si può fare di sera si può fare di mattina di giorno di pomeriggio insomma tante tantissime cose che vogliamo suggerirvi voi prenderete naturalmente nota delle vostre preferite e poi vi invitiamo a partecipare andremo alla scoperta delle bellezze della nostra città nei luoghi più interessanti più suggestivi per scoprire chi vivrà chi visiterà chi frequenterà chi lavora nella nostra città per questa estate capitale e si conclude qui questo spazio informativo serale di Rossini News continua però la programmazione serale di Rossini TV già subito dopo il Tg alle 20 parleremo di Buon Vino quella delle cantine Bruscia che ha presentato i suoi nuovi prodotti e vedremo questo approfondimento realizzato da Nicoletta Tagliabracci a partire dalle 20 a seguire alle 21 e 20 una nuova puntata delle storie della Onlus Gulliver andremo a scoprire il mercatone del riuso questa sera alle 21 e 20 e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa dei quotidiani locali sempre in diretta dal lunedì al sabato e facciamo un passo avanti anche al nuovo programma che vi abbiamo citato poco fa quello di estate capitale si comincia domani alle 21 e 20 con la prima puntata alla palla si balla e poi le repliche sabato alle 20 domenica alle 12 lunedì alle 15 e martedì alle 22 e 30 ed è davvero tutto per questa sera Rossini News termina qui vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Rossini TV e vi ringrazio